Oh, guardie! Non sono qui per farti del male. Cerco solo risposte. La pizia è un sacro strumento degli dèi. La gente viene da tutto il mondo per le mie risposte. Ma nessuno oserebbe irrompere in casa mia. L'ira di Apollo sarà rapida e crudele. Guardie! Sto cercando la mia famiglia. E ovunque io vada, trovo menzogne o qualcuno che cerca di uccidermi. Tu sei l'unica che può darmi delle risposte. Ma mi uccideranno se lo faccio! Non se li trovo prima io. Aiutami e non ti succederà niente, te lo prometto. Va bene, ma fai in fretta. Più resti qui, più rischiamo entrambi la vita. Che cosa è la setta di Cosmos? Sono gli occhi che vedono senza essere visti. Basta con gli enigmi! Voglio dei nomi. Non lo so! Lo giuro! Si nascondono dietro a maschere e veli. Perché lavori per la setta? Non ho altra scelta. Non ho altra scelta. Perciò, tutte quelle profezie degli dèi, tutte quelle persone, sei pagata per ingannare tutti. I più fanno domande sull'amore o sulla morte. Dico loro quello che vogliono sentirsi dire. Ma se qualcuno chiede della guerra o di politica, sono ben pagata per dire quello che vuole la setta. Hai detto che ero nelle tue visioni. Che cosa hai visto? C'è un manufatto sotto il Tempio di Apollo. Rivela quello che solo gli dèi dovrebbero sapere. Mi hai chiamato bambino della montagna. La setta cerca un bambino spartano sopravvissuto a una terribile caduta dal monte Teigeto. Il manufatto ha rivelato che quel bambino sei tu. Hai l'opportunità di fare la cosa giusta. Dimmi dove si trova la setta. Dimmi dove si trovano o andremo a cercarli insieme. Sotto il Tempio di Apollo c'è una stanza antica. Credo che si incontrino lì. Ma senza la loro maschera o il loro mantello non riuscirai a entrare. Dove posso trovare quei mantelli e quelle maschere? C'è un uomo che ogni tanto viene da me. Si assicura che io venga trattata bene. Ho la casa più grande della cora di Delphi. Eppure continuo a offrirmi drachme per il disturbo. Mi mette i brividi. Come si chiama? Il penore. Il penore? Fa parte della setta. Non ne sono sicura. Ma se così fosse avrebbe certamente ciò che cerchi. Hai idea di dove possa trovarlo? Appena a sud della valle della Nin faccia un forte. Si dice che lì conduca degli affari. Sei stata utile. Possa alla luce di Apollo condurti alla tua famiglia. Ciao. 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 Grazie a tutti.